e sappiate quanto importante sia la vostra collaborazione. Io uso sempre una frase e intendo dire che se questo è un quadro ne arricchisce il valore la cornice, la cornice è il pubblico di Roma. Detto questo, il saluto e il buon pomeriggio a Maurizio Colantoni che currerà la diretta, Maurizio buon lavoro, l'applauso a Maurizio che è lì, insieme a Giulio Momoli, Momi, che insieme al suo Gino, che è il ginocchio, così lo chiamo ormai da quando si è ripresa dall'importunio e dall'intervento, le auguriamo un veloce rientro in campo. Buon lavoro anche per il commento tecnico che Giulia fornirà a chi ci segue in diretta. Queste sono le cose fondamentali, quindi ribadisco il fatto che la regia televisiva spesso e volentieri esiterà sul pubblico. Ci sono cinque camere, due sono le camere a spalla, due camere presidiate con gli operatori e poi il cosiddetto braccio, Jimmy Jimmy, con...